E' una grande, questa parte forzate così no no, non è che il pitaglio è finita a prenderla io l'avrei lanciata via per seguire il fatto di me le braccia le canti un po' più lunghe e le staspelli a quando le alzi tutte è molto più facile ma tu vado a fermare